Informazioni ambientali alla luce della crescente attenzione da parte della cittadinanza e dell'immutata necessità di approntare sul territorio iniziative tese alla tutela della salute dei cittadini. A richiederle il Comitato Civico e Ambientale, presieduto da Cosimo Panico, che ha inviato una serie di istanze all'amministrazione comunale. In primis le certificazioni riguardanti le analisi legate all'immissione nella rete idrica comunale dei pozzi presenti sul territorio, con particolare riferimento ai dati relativi ai metalli pesanti, alle sostanze inquinanti e al materiale radioattivo. A seguire la documentazione relativa ai sondaggi effettuati nelle falde acquifere in corrispondenza delle discariche del Castelluccio e Grataglie e sullo smaltimento delle sostanze liquide pericolose e solide delle aziende del territorio. Per concludere, i dati dei controlli effettuati nei canali rigui utilizzati per l'irrigazione dei campi della Piana del Sele al servizio delle aziende agricole di tutto il territorio.